Il nostro obiettivo è chiaramente quello di mettere in condizione tutti, soprattutto quelli che stanno a casa, quelli che seguono Radio Padania, quelli che seguono il giornale, la Padania, che io consiglio sempre di acquistare tutti per far sì che i tempi siano dilatati, che si inneschi quel meccanismo democratico che è la discussione nelle aule parlamentarie e che si mette in condizione veramente la gente di capire cosa sta succedendo. Noi cerchiamo di fare del nostro meglio perché questo decreto non venga approvato. È chiaro che la nostra missione è anche quella di mettere in condizione tutti i cittadini, ma proprio tutti, di sapere cosa sta succedendo. Oggi c'è stata un'assurdità, nel senso che il Presidente del Senato, il gruppo del PD, la sinistra e le maggioranze hanno deciso di stravolgere gli accordi presi ieri, di cambiare l'ordine del giorno e riprendere subito quello svuoto a carceri che contiene, ricordo, anche la cancellazione del reato di immigrazione clandestina. Noi su questo assolutamente ci siamo messi di traverso perché non hanno assolutamente voluto fare una capigruppo per consultarci e sentirci. Hanno proprio voluto in qualche modo imbavagliarci, impedirci di poter trattare l'argomento con tutti i tempi del caso. Quindi noi abbiamo poi preteso di, sulla base del regolamento, poter intervenire su ogni emendamento per spiegare bene le ragioni vere, oggettive, che sono la base della contrarietà assoluta a questo provvedimento. Questa maggioranza voleva, a tutti i costi questa mattina, imbavagliare il dibattito, voleva trasformare un dibattito che è previsto dai regolamenti parlamentari, voleva trasformarlo in una semplice ratifica di decisioni già prese da loro. Noi abbiamo chiesto di poter rispettare il regolamento, la maggioranza ci ha detto di no e di conseguenza nove senatori della Lega sono rimasti in aula e non hanno fatto ostruzionismo, hanno solamente fatto rispettare il regolamento parlamentare, quindi intervenendo su ogni emendamento. Abbiamo fatto capire ai nostri colleghi della maggioranza, in particolar modo del Partito Democratico, che su questo provvedimento la Lega non scherza. Non accettiamo che si approvi questo disegno di legge, cosiddetto svuota carceri, che depenalizza le pene anziché far mandare i delinquenti nelle patrie galere, li fa andare comodamente a casa con gli arresti domiciliari. Peraltro in questo disegno di legge c'è anche l'abrogazione del reato di migrazione clandestina su proposta del Movimento 5 Stelle. Noi abbiamo fatto due giornate di forte opposizione, ieri pomeriggio si sono interrotti i lavori su questo disegno di legge e si sono avviati i lavori per affrontare un altro disegno di legge, quello dell'abusivismo edilizio in campagna. Questa mattina lo dovevamo riprendere, invece abbiamo scoperto che la maggioranza voleva riprendere lo svuota carcere, quindi la Lega questa mattina si è divisa felicemente in due. Una parte del gruppo è andato a presidiare gli uffici della Presidenza Grasso, un'altra parte invece ha continuato a fare il proprio lavoro nell'aula parlamentare fino a che i lavori sono stati interrotti e riprenderanno la prossima settimana. Colgo l'occasione per invitare tutti i militanti ad andare ai presidi, ai 30 presidi in tutta la padagna davanti ai carceri per contestare questo decreto che è contro la gente.